Buongiorno a tutti gli amici di SniTube Facebook e Twitter. Eccoci qua con il nostro appuntamento di Black Friday, venne di nero, dove tutto il mondo va pazzo a fare gli acquisti. Ma cerchiamo di fare non un venne di nero, ma un venne di oro, un weekend d'oro con qualche scommessa vincente. Allora, cominciamo con le due partite che si giocano domani in Serie A, due partiti con un tema veronese. Cominciamo con la partita a Modena tra Sassuolo e Verona e qui vediamo Sassuolo favorito a 2.10, il pareggio a 3.25 e Verona a 3.60. Ora andiamo allo stadio Bentegori di Verona, dove Chievo ospita Lazio e l'Aquila vola a affrontare gli asini volanti con il titolo di favoritismo, perché la squadra romana è quotata a 2.15 per una vittoria in trasferta, con il pareggio a 3.20 e Chievo a 3.50. Ora passiamo alle cinque partite che giocano domenica alle 15. Cominciamo con Empoli-Semptoria. Qui vediamo la scu... no scusate, Empoli-Atalanta, scusate, cattivo. Vediamo Empoli quotato a 2.20, il pareggio a 3.10 e Atalanta a 3.50. Mentre a San Siro c'è un bel Milan-Udinese, con Milan a 1.65, il pareggio a 3.75 e Udinese a 5.25. Ora è veramente un periodo genovese per la squadra di Cesena, perché la scorsa settimana hanno giocato contro Sampdoria e ora gioca contro Genova. E vediamo Genova favorita a 2.30, il pareggio a 3.20 e anche Cesena a 3.20. Ora passiamo alla partita tra Palermo e Parma. Con Palermo a 1.90, il pareggio a 3.45 e Parma a 4. Manteniamo sempre un tema isolano, ma ci spostiamo da Sicilia a Sardegna, dove Fiorentina va a Caleri, favorito, quotato a 2.20, il pareggio a 3.50 e Caleri a 3.10. Ora domenica non si può fare più la passeggiata alle 18, perché c'è una bella partita, il derby del mole tra Juventus e Torino. E Juventus è quotato a 1.30, il pareggio a 5 e Torino a 11. Poi c'è sempre una partita molto interessante alle 20.45 tra Roma e Inter. Roma è un po', diciamo, sotto pressione, visto che saprà già il risultato da Juve un paio di ore prima, e favorito, quotato a 1.80, con il pareggio a 3.50 e Inter a 4.50. Concludiamo con l'ultima partita di questa giornata, che si gioca lunedì sera tra Sampdoria e Napoli. E qui abbiamo un altro favorito in trasferta, ci sono quanto? 1, 2, 3, 4 in questa giornata. E Napoli è quotato a 2.25, il pareggio a 3.20 e Sampdoria a 3.30. Per ora di tutto, ricordatevi sempre di collegarvi su www.snai.it per le quote belle e fresche e belle giornate. E ci vediamo fra poco per altre quote, spero vincente.